Mettiamoci a fuoco eh! Domenico ultime considerazioni? Allora tre cose importanti Primo punto, Vanni parla solo di immobili, quindi passare del tempo della macchina è molto difficile Secondo punto, Vanni non pubblica video che non parlano di immobili, quindi vedrete solo altri pubblicare video che parlano di immobili Terzo punto, e non meno importante, il problema quando torni in Italia è che ti sei appena fatto bagni in piscina e il costume bagnato Quindi è difficile da gestire Quindi un saluto a tutti in Italia e beati loro che restano ancora un po' in Florida Ciao Florida!